Professor Roberto Ieraci, infettivologo nonché ricercatore associato del CNR, si parla di campagne vaccinali, campagne che però non da molto coinvolgono anche l'herpes zoster. Come mai questa nuova esigenza? Perché finalmente abbiamo un vaccino sicuro, efficace e duraturo nel tempo che sicuramente è mirato e appropriato verso le persone anziane che sono quelle che soffrono di più di questa patologia che può essere invalidante a causa della nevralgia posterpetica, quindi un dolore neuropatico cronico veramente incredibile da questo punto di vista. Quindi la possibilità di provenire questa manifestazione clinica che è invalidante e ripeto è legata all'immunosenescenza. Ovviamente la prevalenza di questa malattia aumenta con l'aumentare dell'età ed è legata al declino delle risposte immunitarie a cellula mediata. Quindi avere finalmente la possibilità di avere un vaccino maneggevole, sicuro, sono due dosi che possono essere fatte a distanza di 2-6 mesi, quindi sicuramente è un vantaggio ai fini del beneficio, del beneficio e del benessere delle nostre persone anziane. Allora, si stima che nel corso della vita il 20-30% dei soggetti possono andare incontro a questa malattia, ma diciamo che questa frequenza aumenta con l'aumentare dell'età in maniera esponenziale, addirittura a 85 anni metà della popolazione anziana in quella fascia d'età soffre di herpes zostre. Quindi la possibilità di avere un vaccino sicuro, efficace e duraturo nel tempo sicuramente è un vantaggio per questi pazienti. In ultimo, riduce anche il carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché attualmente la terapia delle manifestazioni cliniche non è ottimale. Molti di questi pazienti addirittura fanno una politerapia per riuscire a controllare soprattutto il sintomo dolore. Ecco perché la possibilità di prevenire sicuramente è un vantaggio per questi pazienti. Professor Stefanizzi, una campagna vaccinale che il Sistema Sanitario Nazionale promuove anche per l'herpes zoster. È un vaccino che possono fare tutti? È mirato come funziona? Allora, la vaccinazione anti zoster è da poco entrata nell'offerta vaccinale, nel nostro insieme di vaccinazioni che abbiamo a disposizione per l'adulto. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo un vaccino che ci permette di raggiungere quella fascia di popolazione che più corre i rischi della malattia. Cioè ad oggi abbiamo un vaccino sicuro ed efficace per quella fascia di popolazione, parliamo di soggetti immunodepressi, soggetti fragili, soggetti con condizioni di alto rischio, che a partire dai 18 anni possono essere raggiunti da questa offerta con questo vaccino, con questo nuovo prodotto. Teniamo presente che lo zoster è una malattia invalidante, è una malattia che non necessariamente colpisce gli anziani. Chiaramente l'incidenza è più alta, però può colpire in tutte le fasce d'età e soprattutto colpisce e rende, diciamo, invalidante la situazione per quei soggetti che hanno già una base di rischio importante. Quindi le raccomandazioni per la vaccinazione sono rivolte a tutti sostanzialmente? Allora, il vaccino è autorizzato a partire dai 18 anni, per cui chiaramente la fascia importante, diciamo, di offerta è soggetti a partire dai 18 anni che hanno gravi condizioni di rischio, condizioni di fragilità che aumentano sia l'incidenza dello zoster, sia soprattutto il rischio di complicanze. È chiaro che abbiamo ancora nel nostro piano vaccinale anche l'altro prodotto che è diretto alla popolazione anziana senza fattori di rischio. Per cui, a partire dai 18 anni, soggetti che hanno determinate condizioni con morbidità importanti sono la popolazione target dell'offerta. A noi il compito di trovare la strategia più idonea per raggiungere questi soggetti, magari coordinando specialisti, medici in medicina generale e dipartimenti di prevenzione.